Stendi Govation e applausi sabato al Teatro Garibaldi di Modica per Cenerentola, il balletto della compagnia di danza contemporanea Itai. Una fiaba senza tempo, in grado di affascinare ed emozionare grandi e piccini. Nello spettacolo di sabato, il regista e coreografo Lino Privitera ha immaginato una Cenerentola diversa dal solito. Interpretata da Giulia Tringali, Stendrillon è una bambina povera che vive in strada e trascorre le sue giornate insieme ad un burbero orologiaio, che conosce solo l'aggressività e il comando come mezzi comunicativi. Stendrillon, stanca, si addormenta e nel sogno si trasforma in una divertente cenerentola, portata in scena da Arianna Bagnato. Il regista Privitera descrive così una cenerentola ironica, in grado di incantare e coinvolgere gli spettatori attraverso la poesia e la danza. Sul palco anche Vincenzo Ludovico Tallarico, nel ruolo del principe. A Kik Xani, in quello della matrigna, Melissa Strano e Roberta Piazza sono state invece le sorellastre ed Ettore Rapisarda nelle vesti del padre di Cenerentola. Prossimo appuntamento al Teatro Garibaldi con la stagione di musica domenica 17 marzo alle 17.30, con la commedia musicale I Promessi Sposi, con la compagnia del Teatro Ambasciatori di Catania, diretta da Alessandro Incognito.